Questa è una coppia di inseparabili, molto carini, è stato un intervento di ieri sera alle 21.30, sono entrati in un appartamento di Borgoratti e niente, non volevano più uscire, ora sono qui al CRAS di Campomorone dove verranno alimentati perché hanno mangiato due chicchi d'uva ieri sera e basta, se qualcuno li avesse perduti magari dia una telefonata al CRAS di Campomorone o a noi, ecco, se qualcuno li riconoscesse, va bene, speriamo che si ritrovi il proprietario, non si vedono molto bene ma se apro scappano, comunque, Borgoratti, Via Tanini, non penso che la zona da dove sono fuggiti sia molto lontana, ecco, tutto lì.